Ciao a tutti, come sedurre e conoscere al supermercato? Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, tutti fanno la spesa al supermercato, però non tutti vanno al supermercato con l'idea di poter conoscere, l'idea di poter sedurre. Bisogna tenere presente che questo è invece uno dei luoghi, degli ambienti dove è più facile potersi adurre e poter conoscere. Soprattutto, diciamo, magari i grandi centri commerciali dove c'è comunque passaggio di gente e di molta gente differente, ad esempio di orari di lavoro differenti. Ad esempio, se sei donna e vuoi conoscere un uomo single, ti conviene andare negli ore serali, perché l'uomo single, diciamo, tende a fare la spesa nelle ore serali. Se sei uomo e, ad esempio, invece vuoi conoscere una casalinga, magari per avere un'amicizia trasgressiva con una donna sposata, vai al mattino, perché le sposate normalmente vanno a frequentare i centri commerciali al mattino. Ecco, quindi queste sono alcune indicazioni, no? Ora, tu vai al centro commerciale, al supermercato, come fare a conoscere? Beh, ci sono diverse modalità. Quella più hard, lo tipico scotto col carrello, cioè scontri col carrello, inavvertitamente fai danni, butti giù tutto, chiedi scusa, aiuti a rimettere su, e intanto fai la conoscenza, e per scusarti, guardi, guardi, mi spiace proprio per quello che ho fatto, mi sento proprio in dover, guardi, ho fatto un caffè proprio per farle passare questa paura che le ho fatto prendere, andiamo, venga, venga con me che le offro subito questo caffè, e questa è una modalità molto rapida per poter conoscere. Poi ce ne sono moltissime altre, quelle situazionali, ad esempio, se tu vedi al centro commerciale una donna che sta guardando un abbigliamento o un qualcosa, è molto semplice chiedere, ad esempio, guardi, stavo vedendo che lei osservava questa vetrina, sai, io devo fare un regalo a mia sorella per il suo compleanno, e non ho proprio idea di cosa comprare, lei cosa mi suggerirebbe? Guardi, descrivo brevemente com'è mia sorella. Magari le fai vedere più una foto, farlocca se non hai sorella, ti inventi qualcosa, in modo tale dà, intanto dai una buona immagine di te, dai l'immagine del fratello premuroso che vuol fare il regalo alla sorella. Insomma, anche qua è una situazione che vai a creare, che è molto utile per poter tranquillamente conoscere, e poi le persone c'è a dire che nel centro commerciale si fidano anche, anche le donne si fidano, perché il centro commerciale è proprio all'aperto, cioè all'aperto, magari al chiuso, però, come dire, c'è tantissima gente, quindi difficilmente le persone hanno temo, hanno paura o qualcosa, anche, sono anche più disponibili, ad esempio, che il classico locale, che è la discoteca, perché l'informalità, diciamo così, del centro commerciale, o del supermercato, danno una possibilità in più, insomma. Quindi ci sono diversi modi, situazioni, chiedere delle cose su prodotti, è molto facile, e tra l'altro c'è un vantaggio anche al supermercato, o al centro commerciale, che c'è un ricambio di persone molto elevato, soprattutto se è un centro commerciale grande, o un supermercato grande. Meglio il centro commerciale perché ci sono negozi diversi, per cui hai possibilità diverse, sia all'interno dei supermercati, sia all'esterno del supermercato, e c'è un ricambio veramente pazzesco. Quindi tu in una giornata puoi provare 5-6, in una giornata, in un'ora, 5-6-7 approcci, e crearti proprio meglio che andare su una chat, anche perché l'incontro è dal vivo. Quindi ovviamente è molto importante rispettare la regola dei 3 secondi. Cosa vuol dire rispettare la regola dei 3 secondi? Che da quando entri nel campo sensoriale di questa persona, entro 3 secondi, diciamo così, devi fare una battuta, devi dire qualcosa, perché in modo tale che la persona non abbia tempo di riflettere, non abbia tempo di pensare. Se stai lì, guardi, ci pensi, vai avanti e indietro, ti nota, beh, si innescano sempre dei meccanismi di difesa. Quindi questo è importante. Quindi uno dei trucchi, tra virgolette, per fare colpo, è prendere di sorpresa, perché la nostra parte emotiva non vede l'ora di dividersi, di viversi le emozioni. Poi la domanda, che è un'altra domanda, che viene fatta tipicamente sugli orari, ma come ho già detto prima, gli orari vanno a selezionare il tipo di obiettivo che tu hai. Quindi se sei un uomo che cerca un'avventura trasgressiva con una donna sposata, va il mattino. Se sei un uomo o una donna, diciamo così, i single vanno la sera, prima dell'orario di chiusura, diciamo così, no? Perché vogliono fare presto, comunque non vogliono tanto casino, e comunque magari lo fanno perché escono dall'ufficio, poi vanno in palestra. Insomma, la tipica vita del single è ufficio, palestra, e poi centro commerciale, insomma, e poi uscita serale. Quindi questo è la cosa, no? I reparti dove si può agire, possono essere un po' tutti. Ovviamente tu devi muoverti tra i reparti, e dove vedi la situazione, devi avere delle battute già preconfezionate per ogni tipo di reparto, diciamo così, che te le puoi preparare. È importante questo. Come abbigliamento, come look, è importante qualcosa che ti faccia riconoscere. Allora, se sei donna, diciamo, ovviamente un abbigliamento femminile è preferibile uno mascolino, ma non eccessivamente provocante. La femminilità è il giusto punto. Se sei maschio, molto meglio un abbigliamento, diciamo, ricercato, che non è detto che debba essere un abbigliamento, diciamo, per forza, un abbigliamento di, come dire, giacchi e cravatta, anzi, meglio informale, ma ricercato, con qualche accessorio che ti faccia riconoscere, che ti dia uno stile, può essere un ciondolo, può essere un po', diciamo, qualcosa che ti faccia riconoscere, un ciondolo, una collana, un bracciale, qualcosa, un anello, qualcosa di tipico che ti possa far riconoscere. E poi il look deve essere abbastanza sobrio da un certo punto di vista, per le donne soprattutto, per non apparire, come dire, un po', come dire, una di quelle, diciamo così, e per gli uomini non deve essere eccessivamente, deve avere qualcosa che lo caratterizzi, ma non devi sembrare proprio, diciamo, settoriale, no? Tipo giacchi e cravatti impiegato di banca, oppure, che ne so, punk, dark, deve essere un qualcosa di tranquillo, sobrio, con un accessorio particolare. Ecco, queste sono le regole basic, basiche, per sedurre al supermercato. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, mi iscrivete al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ciao a tutti!